una settimana particolare della che vogliamo parlare insomma mi sembra che io eri giovedì tutto a bordo del campo tutto il rispetto di questo mondo per Pioli ma mi sembra che le partite non si giocano così se poi l'arbitro vede altre cose va oltre quello che è l'immaginario collettivo contemporaneo e allora se vogliamo fantasticare dobbiamo insomma pensare alle extraterrestri no che non so c'è Voyager sulla Rai quel rigore mi puzza tanto mi lascia perplesso perché è strano lo capisco credo che se noi giochiamo tutti parlare della forza mentale del Milan hanno giocato in un modo incredibile io penso che se tu giochi 11 contro 11 sul campo della battaglia come se deve fare sempre comunque un'altra partita. La ripeto è la cosa che non mi piace possa dire che io faccio polemica faccio questioni e comunque come ho detto alla Cacara a Roma non ho fatto di Cacara ne ho fatto di essere non credo giustizialista però non mi è piaciuto non mi è piaciuto come se sono verificata delle cose non ce l'ho con Pioli non ce l'ho con il Milan non ce l'ho con Giroud ognuno fa le proprie partite ognuno fa quello che deve fare ma l'arbitro deve fare l'arbitro non deve subire il condizionamento di dirigenti, di allenatori, di società importanti e credo che se noi vogliamo parlare di calcio giocato una cosa se vogliamo parlare di altra cosa possiamo parlare di uomini e donne di H5 di Maria di Filippi possiamo parlare di Salvatacirco ci sono bei programmi sulla RAI anche Geo a Geo come ho detto Geo a Geo e se vogliamo parlare di animali ma se vogliamo parlare di calcio giocato penso che dobbiamo parlare di altre cose non mi piace minimamente che si inventino cose che non esistono